Ragazzi si continua Ora andiamo un attimo a prendere qualche punta No prendiamo anche No, qua no Mi sa che ho preso tutto No, non ho preso un cavolo invece Io sto attenta Sei tu quella che è scema che non stai attenta Poi prima avevo pure visto Zelligare Mi hanno detto ah ecco dov'era Si era nascosta Yeee Prendiamo i punti Aia Sai ecco dai prendili però Su Non fare il pirma Bravo Oh così bravo bravo Ora cerchiamo di non fare i tonti Che quando vai veloce Sti punti è quasi difficile prenderli Secondo me è la roba più difficile di tutto il gioco E ci dà pure dei punti bonus così mentre corriamo Sono gentili Se nelle gare C'è il binario qua Non l'ho preso mica Entriamoci Perché qua Nella miniera non ci sono mai stato A parte dentro Andandoci lì Facendo quella cavola di gara Con le quattro auto colorate lì Eh giuro che qua non ci sono stato In questo binario No mai Mai Sembra uno di quei carrelli che deve essere fatto Che culo ragazzi Che culo Che culo Non dite che ho avuto sfortuna Perché no No Che sfortuna del cavolo Che c'ho Non me l'aspettavo proprio questa Ma non importa No 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 Senta I punti non li pigli? Non li pigli Non li prendi? Oh lì c'è anche un altro binario Andiamo a vedere se ci sono dei punti Perché liberamente qua non ci sono mai stato Cioè liberamente Facendo il tempo libero Per questo è tempo libero Sai te la gira Corre finché cavolo gli pare Et voilà Figo ragazzi A me piace dire voilà Perché è francese Il francese è una bella lingua Si Ecco Ho fatto una gran cazzata Scusate Eeeh Che tonto Non ci voleva proprio Ah vabbè tanto lì non c'era niente Già è molto Yeah Ritorniamo su al motel Qua c'è anche un punto che non ho preso Ah pensavo di mixarlo Cosa hai detto? Chi ti ha sentito? Yeah Fighissimo ragazzi Questo posto a me piace un casino Come il gioco No il gioco mi piace di più Perché tanto il gioco è l'insieme di tutte queste Quindi Non è niente di Non è cambiato niente Ciao Fletcher Yeah Scendiamo giù per la valle Iappi Era da un po' che non prendevamo dei punti eh Ragazzi miei Ehi ciao Sally Oh finalmente l'abbiamo vista veramente E il problema è che lei Che è lei che non ci ha salutato Io l'ho salutata L'ho pur urlato In modo che la voce entrasse nel televisore Iappi No 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 Che cosa fai? Ah no Pensavo di andare nella direzione sbagliata Ehi Ci sono un sacco di persone E Sally è rivenuta di nuovo Non so come abbia fatto A fare questo qua Ma fa niente Aia Sì ma guarda dove vai però Ma in realtà è stato tonto che non ha guardato dove andare Yeee Ah figo bello Ah No 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 Non farlo Non farlo Ma secondo voi sapete dove sto andando? Val dubbio Sto andando sto andando sto andando Dalla parte giusta Aia Che qua Questo era bello Schivato Fletcher in un modo clamoroso È perché sono figo ragazzi Ok ragazzi ci si vede Allo sbloccamento No sì Allo sbloccamento Allo sbloccatura di nuove vernici E adesso mentre salita scende Io stoppo Ciao 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 Grazie a tutti.